E' l'aspetto umano a contraddistinguerlo. La sua prima domanda è come ti chiami? Cerca un rapporto diretto e immediato, senza fronzoli e sovrastrutture. Si presenta in punta di piedi Federico Moccia, che quest'anno ricoprerà il ruolo di presidente di giuria della sesta edizione del Premio Internazionale di Narrativa e Poesia Gabriele D'Annunzio. Proprio lui che racconta quante barriere abbia incontrato prima del suo grande successo. Spiega ai nostri microfoni, nessuna casa editrice credeva che quello che avevo scritto in tre metri sopra il cielo fosse accaduto davvero. Mi fa piacere avere la possibilità, questa bellissima città di Pescara e legato a Gabriele D'Annunzio il fatto di poter dare un premio che possa in qualche modo spingere, ma anche la curiosità sinceramente di conoscere dei nuovi scrittori. Quindi per me avvicinarmi a dei testi che arrivano così come fu il mio quando lo mandai a tutte le case editrici e che nessuno lo voleva pubblicare, secondo me è una grande curiosità. Scrivere per esprimere se stessi, scrivere superando le paure di piacere o di essere vulnerabili. Il Premio D'Annunzio sarà per lui l'occasione di giudicare il lavoro di tanti, tantissimi scrittori in cerca di pubblico. Secondo me uno scrittore deve essere comunque fiero del suo lavoro, non deve aver paura, anzi a volte la condizione di pensare eccessivamente agli altri può diventare un limite per il piacere, come diceva lo stesso D'Annunzio, dello scrivere. Da scrittore a giudice è un capovolgimento di ruoli che in questa occasione diventa uno strumento per lanciare un messaggio di incoraggiamento a chi ancora non ha ottenuto l'ambita consacrazione. Non perdere mai l'entusiasmo che ti porta ad attraversare quella pagina bianca facendola diventare improvvisamente viva, piena di colori, di racconto, di storia, di dolore, di felicità, di sofferenza e quella di vincere un D'Annunzio d'oro, perché no?